Siete stati bravissimi e rapidi a indovinare il nome di Vitaly Kutuzov nell'indovinello che vi ho proposto qualche settimana fa. Vediamo se adesso riesco a mettervi più in difficoltà. Cominciamo con il dire che viene definito, è stato definito, il giocatore dai gol pesanti. Questo suo appellativo, questa definizione che ha accompagnato il giocatore durante la sua carriera è una definizione figlia anche di un gol che ha realizzato soprattutto per quel gol in maglia azzurra. E vi ho già messo un po' sulle tracce. Un giocatore che ha giocato in maglia azzurra. Quindi, italiani. È uno dei tanti giocatori, sono tanti, che è stato prelevato in un oratorio. E allora un oratorio come si può chiamare soprattutto San Giovanni Bosco. Ed è il secondo indizio. Un terzo indizio è una statistica. Pensate che questo giocatore, in campionato, ha una media gol dello 0,50. 0,50. Una media molto alta per questo giocatore. Giocatore che posso definire, senza mettervi ovviamente, senza ingannarvi, giocatore estroso. Giocatore, se io penso a lui, giocatore estroso. Giocatore funambolico. Nel Milan ha avuto anche questa caratteristica, di avere segnato nella sua carriera nel Milan. Ricordo, in una delle sue stagioni nel Milan, sia l'andata che nel ritorno contro la stessa squadra. Di serie A. Quindi non è che serie A. Dicevo un giocatore funambolico estroso, ma... Ma... Io ricordo il suo primo gol con la maglia del Milan. Non dopo un'azione straordinaria, dopo un'azione funambolica. Ma bravo, intellettualmente, a livello di riflessi, a capire, a capire dove sarebbe andata la palla in uno degli episodi più curiosi della recente storia del Milan. E io, in questi casi, io dico che ha l'emisfero destro molto sviluppato, dove risiede l'intuizione. Vi do anche un altro indizio. Sapete che a me piace dare i soprannomi ai giocatori, ma quando è arrivato al Milan aveva già un soprannome. Un soprannome, diciamo esotico, un bel soprannome, più per la sua somiglianza fisica che per il suo modo di giocare. È un giocatore che, dopo l'esperienza al Milan, ha avuto qualche problema e non è riuscito più a brillare, pur essendo partito con grandi ambizioni e giocando in grandi squadre. Per me vi ho detto fin troppo e vediamo se siete così bravi di indovinare questo giocatore del Milan, uno dei ragazzi del Milan.